E io fondamentalmente vengo qui stamattina a dare questo messaggio. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale dicendo che ci saremmo dati come grande obiettivo quello di modificare il rapporto tra Stato e cittadini, di modificare il rapporto tra lo Stato e le imprese e che la nostra bussola sarebbe stata un concetto molto semplice, non disturbare chi vuole fare, non disturbare chi vuole creare ricchezza. Non disturbare chi produce lavoro.